Ciao ragazzi, oggi siamo qui in questo nuovo video. Allora, come vedete non sono nel letto perché oggi faremo la morning routine. Allora, Tina mi ha sfrattato perché altrimenti ero ancora là che dormivo tranquillo. Però adesso vi do le sue ore, sono le 10 e 10 ragazzi, pensate quanto dormo. Milu, Milu, non fai la bulla. Comunque io mi sto coccolando Milu anche se lei non è tanto d'accordo su questa coccola. E quindi ragazzi, adesso mi preparo per la video le serie che è alle 11 e quindi andiamo. Ragazzi, dite e dimmi se anche i vostri cani si comportano in questo modo con le vostre ciabatte. Ragazzi guardate, adesso non me la moide più. Allora, adesso proprio mi vuole... Ragazzi, con un canno è troppo difficile anche mangiare. Milu, cosa vuoi giocare a chiapparello? Chiappavamo il cracker. Ho finito con la serie ragazzi con Milu che mi salva adesso. Adesso mi immorto, adesso ciabatte lo so già il gioco in posizione. Comunque io farò video lezione qua sotto. Adesso ovviamente vi ando a lavare o a sistemare un pochino, a vestire anche. E io farò video lezione qua sotto perché Tina mi ha sfrattato da camera via per la sua video lezione. Ah ragazzi, una curiosità, ma anche voi siete pieni di verifiche in questo periodo? Perché io ho oggi due verifiche da consegnare oggi, quindi scrivetemelo anche voi. Comunque le farò oggi pomeriggio perché stamattina dopo la video lo sai magari giocherò un po'. E quindi ragazzi adesso andiamo. Ragazzi sono lavato, vestito, pettinato e adesso la cosa più brutta. Video lezione. Ragazzi l'incubo di tutti e ragazzi in questo periodo parlo di tutti, tutti. Adesso però dobbiamo andare, quindi andiamo. Ragazzi mi sto preparando per la video lezione, anzi lì bisogna preparare il portapenne preparato. Adesso beviamo un zucchino via della video lezione, poi ci colleghiamo. Noi usiamo Zoom, anche se poi dobbiamo usare Meet. Per le video lezioni uso l'iPad perché mi trovo bene. Quindi adesso beviamo un bel zucchino e poi andiamo in video lezione. Ragazzi, cuffie del toro e si comincia. Ragazzi appena finita video lezione. Adesso mi sa che sono le 11.42, quindi adesso vado un pochino a giocare. Ritiro, poi andiamo a giocare. Ragazzi gioco un po' Fortnite e poi è ora di pranzo. Quindi giochiamo un po' Fortnite. Io ragazzi sto aggiustando questo video di giovedì che uscite a questa skin. Fa ridere, cioè fa ridere, non potete dire che non fa ridere. Ragazzi, è tipo Olly, è Olly tipo. Olly sarebbe l'amica di Sky, infatti. Comunque ragazzi adesso faccio una partita e poi andò a mangiare. Quindi giochiamo. Ciao. Grazie a tutti. La mia morning routine finisce qui ragazzi, ora di pranzo. Scusate nei commenti se è così corta anche per voi con queste video lezioni. Comunque lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e cliccavi sulla campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS